99 in gara, corsia 3 Andrea Dai Campi, corsia 4 Damiano Musella in 5 Nicola Stomi, Giacomo Dozio in corsia 6. Ufficiale il vincitore e dunque applausi a Giacomo Mosca, President Bologna. Attenzione annuncio squalifica, l'atleta Simone Sostaro è stato squalificato per nuotata irregolare. Quarta serie ragazzi in acqua, la terza ai blocchi con Luca Gobbo in 2, Giacomo Creazzo in 3, Pietro Bosetto in 4, Stefano Finotto in 5, Jacopo Fantinato in 6. Grazie a tutti. 1.15.64 dalla terza corsia Andrea Dai Campi, 2001 Tim, gran bel miglioramento per lui per imporsi in questa quarta serie maschile. Tra poco la partenza della terza, ricordiamo a tutti i presenti di rispettare il massimo silenzio al momento.